ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 2 agosto 2024 iniziamo come sempre la giornata e anche le trasmissioni della nostra emittente leggendo i giornali e partiamo alla nostra rassegna con l'almanacco del giorno e vediamo la festa di oggi eccola la festa di oggi è la festa di santa maria degli angeli in realtà oggi si ricorda il perdono di assisi ed è la festa di santa maria degli angeli questa grande basilica che ingloba nei pressi di assisi la porziuncola la chiesetta costruita da san francesco dove egli fondò l'ordine dei francescani ed è il luogo dove la madonna parve a san francesco è il luogo la cui visita ottiene il più ampio perdono delle colpe così chiese san francesco alla madonna che appunto per intercessione sua ottenne questo perdono e che come 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 si fa ad ottenere questa indulgenza che poi è stata confermata anche dal papa ebbene l'indulgenza si ottiene con si tiene a partire dal mezzogiorno di ieri fino alla mezzanotte di oggi quindi c'è ancora parecchio tempo per visitando una chiesa francescana si visita una chiesa francescana si recita il padre nostro il credo ci si confessa si fa la comunione e poi si fa un ave un pater un ave gloria con le intenzioni per le intenzioni del sommo pontefice insomma bisogna un po rivestirci rinnovarci per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti appunto del sacro per ottenere il perdono dei peccati e l'indulgenza è anche trasferibile ai defunti quindi è un giorno particolare un giorno di raccoglimento di riflessione è il giorno del perdono quel perdono che dovrebbe poi essere uno dei dei movimenti ispiratori del cristianesimo nei confronti anche di tutta la vita della vita di tutti i giorni e dunque oggi è la festa di santa maria degli angeli ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo ecco mi pare di vedere dalla grafica che oggi sarà ancora una giornata stabile ampiamente solleggiata è improntata ad un caldo veramente intenso un caldo che raggiungerà con le temperature massime i 30 gradi mentre la minima si è attestata a 22 gradi le temperature dunque sono particolarmente affose sono umide quindi la percezione anche superiore a quella del dato reale i venti sulle coste espireranno con una tensione media da ovest nord ovest mentre nell'interno da ovest sud ovest il mare è calmo il sole è sorto alle 5 e 56 e tramonterà alle 20 e 31 apriamo dunque il giornale il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che oggi oggi inizia la festa del mare una degli eventi tradizionali della cultura e della storia della socialità e dell'economia fanese una festa che si vuole rivitalizzare infatti l'amministrazione comunale si è messa all'opera non per quest'anno dato che i tempi erano molto brevi ma per il prossimo anno di darle un rilievo maggiore in realtà il rilievo in modo particolare e intimo per quanto riguarda i pescatori già ce l'ha questa festa ebbene oggi il ridosso l'associazione che opera per per l'evidenza delle tradizioni marinare ha operato due grandi e due importanti anniversari ebbene oggi si festeggiano i 60 anni dalla terribile tempesta che investì tutta la costa fanese ma anche quella romagnola l'8 giugno del 1964 dove purtroppo perirono in mare alcuni pescatori sono i pescatori che vengono ricordati Aldo Valentini, Cesare Tonti, Riccardo Perugini e Lido Ricci fu la più grande tragedia che colpì la marineria fanese nei tempi moderni allora non c'erano i sofisticati congegni che tutelano oggi la sicurezza della navigazione come le previsioni meteo localizzate, la cartografia elettronica, la geolocalizzazione satellitare c'era solo l'esperienza del capobarca che aveva con sé un baracchino con il quale poteva comunicare con le altre imbarcazioni e anche con la propria abitazione ma non c'era niente più se non appunto l'esperienza di colui che andava in mare da piccolo e quindi poteva fronteggiare le tempeste la tempesta del 1964 però fu superiore ad ogni previsione e appunto il mare ebbe ragione e la violenza del mare fu superiore a quella dell'aperizia appunto dei pescatori quell'altro appuntamento invece si riferisce ai 40 anni della visita di Papa Giovanni Paolo II, Papa Oetila a Fano ebbene Papa Oetila accolse l'invito che fece all'allora vescovo Costanzo Mici un invito che probabilmente si faceva non con una grande speranza che venisse accolto invece il Papa lo accolse, il Papa venne a Fano, venne a Fano in elicottero incontrò la popolazione e fu veramente un giorno memorabile ebbene questi due avvenimenti verranno ricordati questa sera alle ore 21 nella piazzetta antistante il monumento dei caduti in via Nazario Sauro, lo fa il ridosso verranno proiettate anche delle immagini di quelle due giornate memorabili quella appunto dell'8 giugno e quella del 12 agosto del 1984 quando venne Papa Oetila e fece quel grande abbraccio alla popolazione dal Cigalin, il motopeschiereccio appunto che lo accolse e lo portò dalla Sassonia poi in zona Porto dove partecipò ad una cena con tutta la popolazione Restiamo sul lungomare e vediamo questo articolo I residenti sono in allarme, sono i residenti del Lido i quali temano che l'aumento delle iniziative che riguarda il mese di agosto sappiamo che per il mese di agosto dal 1 al 15 l'amministrazione comunale ha organizzato tutta una serie di eventi con musiche, incontri eccetera per incentivare di più il turismo però insomma c'è anche gente che di sera vuole riposare gente che non sta bene, gente che al mattino si deve alzare presto ebbene sentire durante tutte le ore quel tum tum musicale certo non è una cosa molto molto agevole ecco perché i residenti pur sapendo che in agosto il Lido attrae tanta gente, insomma sono nati lì e sanno come funzionano le cose chiedono che ci siano più controlli, che ci sia un maggiore equilibrio tra chi vuole divertirsi e chi ha diritto di riposare i residenti sono già in allarme per i decibel e quindi chiedono questo la novità è che l'amministrazione comunale ha rinnovato finalmente la convenzione con l'ARPAM per i controlli sui decibel e quindi questi potranno essere fatti mentre nel centro storico c'è una situazione critica dalle parti della Basilica di San Paterniano in modo particolare in via Bovio dove si richiedono maggiori controlli e chi lo richiede è il comitato appunto dei residenti del centro storico che difende la vivibilità dei residenti all'interno della città murata vediamo le altre notizie si parla diffusamente di sanità oggi sui giornali perché ieri c'è stata una conferenza stampa che si è svolta all'interno della direzione medica dell'ospedale Santa Croce di Fano l'occasione è stata la presentazione di uno strumento importante è un ecografo che è stato donato dalla Fondazione Carifano al reparto di urologia dell'azienda sanitaria territoriale il reparto di urologia che è diretto dal dottor Valerio Beatrici il quale da alcuni giorni può avvalersi di uno strumento molto molto perfezionato che può effettuare delle biopsie prostatiche garantendo una maggiore precisione nell'individuare le neoplasie insomma i piccoli segni di tumore già al suo nascere e quindi è importante perché intervenire molto molto preventivamente significa la guarigione oggi con il cancro della prostata si può guarire l'importante è intervenire al più presto e questo è uno strumento appunto che può salvare la situazione ma a questa iniziativa era presente anche l'assessore regionale Filippo Saltamartini che ha parlato, ha fatto un quadro di tutti i provvedimenti che sono in atto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria del nostro territorio ebbene ha fatto una dichiarazione importante anzi ha ribadito una dichiarazione importante perché l'aveva già fatta quella che assicura che i 50 posti letto previsti dal sistema sanitario regionale sono confermati per Fano, per l'ospedale Santa Croce quindi non verranno dirottati in altre situazioni né pubbliche né private 50 posti letto in più resteranno a Fano per quanto riguarda la specializzazione sì sembra che sia ortopedia ma questo poi dipenderà e verrà certificato dall'atto aziendale che il direttore generale Carelli si appresta a redigere e dovrà farlo entro il mese di settembre e poi Saltamartini ha detto che dal 1 gennaio verrà incrementato l'organico dei medici e degli infermieri del 15% anche questa è una notizia importante perché la carenza dei medici sappiamo i danni che provoca per quanto riguarda poi le visite le visite diagnostiche e tutte le operazioni e tutto quanto appunto concerne l'assistenza sanitaria quindi oggi leggete i giornali perché insomma il problema della sanità è un problema con cui tutti prima o poi facciamo i conti speriamo di farli il meno possibile però insomma è una cosa realistica con cui ci dobbiamo confrontare ed ora parliamo del canale Albani parliamo del canale Albani perché il canale Albani con quello che è avvenuto l'altro giorno desta molte preoccupazioni sembra che un'orda di cani, randaggi o lupi ancora non è stato accertato ci sono delle orme che vengono studiate nel letto fangoso del canale e hanno fatto strage di tutte le povere anatre le povere oche e anche il povero Cigno Ugo che era il portabandiera l'emblema dell'osi faunistica del canale Albani e sono state azzannate, devastate insomma e sono state uccise e allora si cerca di correre ai ripari di far sì che questa situazione non si ripresenti più è stato fatto un superluogo un sopralluogo da parte dell'assessore alla tutela degli animali e la Mangernino che accompagnata dalla funzionaria dell'ecologia urbana Giovanelli ha condotto appunto un sopralluogo per verificare sul luogo che cosa è veramente accaduto tutto questo ha detto era un atto imprevedibile e imprevedibile quanto accaduto appunto per una cosa che così insomma non si pensava mai accadesse però insomma il fatto che il canale Albani rimanga in secca per mesi durante l'estate è un fatto che non può più verificarsi non può più accadere il sindaco Serfilippi annuncia per ottobre un confronto con Enel Green Power perché insomma tutta questa cosa non si ripete e poi bisogna ripulire il canale dai canneti insomma mantenerlo e c'è un contrasto tra la funzione industriale del canale che alimenta una centrale elettrica che è quella della liscia e invece è una funzione diciamo così estetica ecologica del canale che attraversa la città e potrebbe essere adibito anche a passeggiate su un canoe con canoe e appunto un luogo di divertimento per famiglie che contrasta con la sua funzione con la sua funzione industriale ed ora giriamo la pagina e passiamo nell'entroterra il Corriere Adriatico manifesta la sua attenzione per una manifestazione si tratta i suoni delle Alte Marche 2024 un festival promosso dalla Unione Montana del Catria e del Nerone in collaborazione con i comuni di Aqualagna Pecchio, Arceglia Cagli, Cantiano Frontone Piobbico Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio il festival è in programma dal 7 agosto al 26 ottobre e sarà un suggestivo viaggio un viaggio sonoro tra aria, acqua, terra e fuoco 19 e 20 che così insomma si svolgeranno in questo contesto subappenninico che è di grande suggestione passiamo a Serra Sant'Abbondio anzi restiamo a Serra Sant'Abbondio perché anche Serra Sant'Abbondio fa parte di questa di questa iniziativa dei suoni delle Alte Marche perché perché è stata realizzata un'opera di interesse pubblico di grande di grande attualità ricostruito il primo dei tre ponti tutti bravi nella realizzazione ebbene si tratta di un ponte che è stato un nuovo ponte che è stato inaugurato alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli lo vediamo qui nel momento della inaugurazione con il Sindaco Caverni e l'Assessore alle Infrastrutture l'Assessore Regionale Francesco Baldelli promessa fatta e mantenuta la frezione serrana di Poggetto dall'altro ieri ha di nuovo un ponte nel tratto del Cesano impegno era stato preso a febbraio dall'Assessore Baldelli mercoledì sera il ponte è stato inaugurato con la presenza appunto del Governatore vediamo un fatto di cronaca alla droga nella cassetta delle lettere la nascondeva un giovane un 25enne del Bangladesh residente a Pergola regolarmente inserito nel nostro territorio insomma faceva l'operaio l'operaio in una ditta del luogo ebbene però così incrementava il suo operato la sua piccola economia lavorativa con lo spaccio della droga la droga custodita nella cassetta delle lettere forse era il luogo che lui riteneva più sicuro ma sono stati ancora più diciamo così più perspicaci gli inquirenti che sono riusciti ad individuare il nascondiglio mercoledì pomeriggio durante il controllo del territorio i militari hanno visto il ragazzo al parco Kennedy della cittadina si sono avvicinati per un controllo lui è cominciato a essere nervoso e questo ha messo sull'allarme gli inquirenti che hanno capito che qualcosa non andava a Senigallia a proposito di ponti si parla ancora di ponti dopo la presentazione del rendering del ponte Garibaldi ora si parla di un altro ponte si parla del ponte 2 giugno ora Angeli e ora è una Angeli insomma una soluzione che è stata scartata il modello Calatrava è stato tanto osteggiato in passato ora invece sembra che acquisti maggiori consensi comunque cosa dice il sindaco belli o brutti i ponti devono essere sicuri e Olivetti bacchetta i precedenti amministratori l'opposizione critica sulle modalità della presentazione ma questa è una formalità la sostanza è che quei ponti servono devono essere realizzati al più presto perché poi insomma la funzionalità della viabilità della comunicazione a Senigallia deve acquistare la precedenza per quanto riguarda l'alluvione causa appunto del dei problemi dei ponti di cui abbiamo parlato è stato prorogato dalla commissione parlamentare lo stato di emergenza dalla regione sono stati destinati 400 milioni la sottosegretaria così il territorio è messo in sicurezza si tratta di Lucia Albano sottosegretaria all'economia e alle finanze e deputato di Fratelli d'Italia ebbene la commissione bilancio della Camera dei Deputati ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza dichiarato in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito gravemente il territorio marchigiano ve lo ricordate nel settembre del 2022 vediamo anche le notizie pesaresi il Corriere dedica l'apertura alla forza di attrazione che esercitano i musei le ville e il teatro Rossini per quanto riguarda le visite turistiche ebbene i tour fanno il pieno le visite guidate le guide turistiche sono veramente molto molto apprezzate ottimi i numeri delle presenze di turisti nei luoghi della cultura pesarese luoghi che sono poi evidenziati con maggiore risalto nell'anno in cui Pesaro è capitale nazionale della cultura e quali sono questi luoghi innanzitutto desta molte aspettative la rocca costanza la rocca che è un monumento generalmente non visitabile questa volta finalmente viene aperto al pubblico e poi è compresa la visita al teatro Rossini molto molto bello acquista anche dei giudizi positivi il museo della bicicletta e soprattutto la domus romana di via dell'abbondanza una via nei pressi di via di via Rossini nei pressi della cattedrale si scende nel sottosuolo di epoca romana e si vede appunto quello che era una casa dell'epoca una domus con il peristiglio con i cubicoli e via dicendo una cosa molto molto interessante non si può dimenticare poi Villa Imperiale che è la regina appunto delle attrattive pesaresi Beato Sante parliamo del Beato Sante ritorno all'antico splendore sono infatti conclusi i lavori di restauro nel santuario ora si può visitare ebbene che cosa è accaduto è accaduto che si è intervenuti grazie appunto all'interessamento di Francesco Baldelli l'assessore regionale si è intervenuti nel chiostro dove si sono sostituiti le specchiature rotte le parti metalliche ammalorate la sigigliatura con l'utilizzo di materiali maggiormente resistenti e poi si è intervenuti anche nell'antico refettorio dove si sono eseguite operazioni di restauro finalizzate soprattutto a riportare l'originale cromia quindi i colori i colori dell'ambiente recuperando l'originaria pavimentazione perché poi anche questo crea quella suggestione di un antico monastero francescano il sindaco riaprite subito la palazzina F il sindaco Biancani a Pesaro risponde il direttore Alberto Carelli è impossibile non è possibile ebbene che cosa è accaduto è accaduto che il sindaco ha fatto un sopralluogo all'ospedale San Salvatore ha visto lo stato della palazzina F completata da oltre un anno e mezzo mentre i pazienti lì è chiusa non è agibile mentre i pazienti sono costretti nelle barelle lungo i corridoi è stato quindi l'input del sindaco nei confronti di Carelli di cosa fate fare apritela questa palazzina è uno spazio prezioso poi abbiamo anche l'esponente della opposizione Marco Lanzi che parla ormai insiste che parla ormai insiste sulla questione di opera maestra e di stella polare le due associazioni che hanno avuto dei contributi comunali ma anche di Aset e di altre associazioni senza passare attraverso i bandi di concorso e questo è per quanto dice il Corriere Adriatico ora leggiamo brevemente perché abbiamo visto le stesse notizie sul resto del Carlino che apre con la sanità la donazione dell'ecografo da parte della fondazione Carifano e poi vediamo un caso un caso particolare di un imprenditore che è stato pizzicato con delle azioni irregolari in merito al super bonus ebbene è stato scoperto che nel suo garage aveva una Ferrari California una Mercedes due Harley Davidson tutti i mezzi che ha sequestrato la finanza perché su Calogero Cucchiara di 42 anni imprenditore nato da Grigento ma residente da anni a Fano si è svolta nei mesi scorsi un'indagine dei militari del nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Pesaro l'accusa per il 42enne è aver approfittato del super bonus ristrutturando grazie ai crediti di imposta legati al 110% una serie di edifici del Fanese confiando però i prezzi sui lavori fatti ecco perché è stato appunto oggetto di un provvedimento della Guardia di Finanza concludiamo la nostra rassegna stampa con un fatto di cronaca inseguito e pestato per un diverbio in strada è accaduto a Marotta sono quelle occasioni dove magari l'intemperanza sale esagera per il fatto accaduto sembra che ci sia stato un piccolo incidente stradale ebbene una persona è scesa dalla macchina ha inveito contro l'altra persona è veramente la massacrata di botte insomma questo è un po' quello che è accaduto e noi qui ci fermiamo chiudiamo il giornale abbiamo esaurito il tempo a disposizione dandovi come sempre appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti.